Ciao a tutti amici TecnoAndroid, benvenuti alla video recensione di Fitbit Flex 2, la seconda versione dell'Activity Tracker economico lanciato dall'azienda statunitense, un device che ha un prezzo di partenza di 79,90€ e due peculiarità rispetto agli altri device economici. Punto primo, può trasformarsi in un gioiello, ma a che prezzo? Perché ora vedremo gli accessori costano un po'. Secondo punto, pare sia adatto al nuoto perché può essere immerso fino a 100 metri e dovrebbe riconoscere in automatico l'attività del nuoto. A livello estetico, per quello che riguarda il corpo dell'Activity Tracker, è davvero irrisorio sia il peso, sia la dimensione proprio del dispositivo. Unico blocco, in realtà sono due microblocchi uniti orizzontalmente proprio ai lati del dispositivo. Sulla parte bassa ci sono solamente i tre agganci per poter ricaricare la batteria, per poterlo alloggiare all'interno del caricatore, i tre connettori. Sulla parte superiore invece un piccolissimo display LED sensibile al tocco e che è retroilluminato in cinque punti. Quindi avremo a disposizione cinque LED che fungeranno sia da LED di notifica, sia da segnalatori di promemoria o raggiungimento degli obiettivi giornalieri. Il materiale è una plastica, plastica lucida sulla parte alta, mentre non è trattata e opaca sulla parte bassa. Andando invece a concentrarci sul cinturino, un cinturino in silicone, in gomma, è comunque un materiale allergico, ve lo dico perché io sono praticamente allergica a quasi tutto, soprattutto se c'è del calore, non ho avuto problematiche, è bella la zigrinatura del cinturino e soprattutto la modalità di alloggio. Il tracker è accolto in maniera solida, non c'è il rischio di perderlo. Questo perché si ficca, si infila dalla parte di sotto e superiormente è completamente coperto. Vengono lasciati soltanto i tre spazietti per i LED di notifica. L'aggancio è molto molto solido, ci sono due ganci in metallo, acciaio, suppongo sia acciaio inossidabile, uno piatto e uno rotondo. Essendo un activity tracker entry level, l'unica forma di connettività all'interno del dispositivo è il bluetooth low energy, suppongo versione 4.1 che gli permette di interfacciarsi tramite l'applicazione disponibile per iOS e Android, app che vedremo fra pochissimo. Per quanto riguarda invece il rilevamento dei passi e delle diverse attività, ci affidiamo unicamente all'accelerometro a tre assi. Questo va a rimarcare quanto effettivamente sia economico questo activity tracker, quanto sia entry level. Quello che principalmente possiamo fare con questo activity tracker è rilevare il conteggio dei passi e da qui poi vanno a crearsi altre funzionalità, vanno a essere rese disponibili altre funzionalità e anche il monitoraggio del sonno. Non c'è alcun rilevamento di battito cardiaco perché manca il sensore. A partire dall'attività dell'accelerometro, che dovrebbe essere in grado di riconoscere tutte le attività sportive che andiamo a svolgere, quelle chiaramente supportate, ci sono una serie di feature aggiuntive grazie all'applicazione per iOS e Android. Ad esempio c'è il calcolo delle calorie bruciate, che ovviamente si aiuta anche con il nostro profilo, quindi peso, altezza e sesso. Poi possiamo ricevere dei promemoria quando siamo troppo inattivi, in modo da poter recuperare in qualche modo e tutti i dati vengono rielaborati in modo da poter avere sempre un'idea chiara di cosa abbiamo fatto durante il giorno e quando siamo stati più attivi. Una delle altre feature molto interessanti sono gli obiettivi giornalieri, obiettivi che si possono basare sulla quantità di passi da fare, la distanza da andare a coprire, i minuti di attività minima da avere e la fascia oraria entro la quale è necessario raggiungere questi obiettivi. Poi un obiettivo barra promemoria molto interessante è quello di riuscire a compiere almeno 250 passi ogni ora. Se questo per esempio non avviene qualche minuto prima che scocchi l'ora, il dispositivo inizia a vibrare per ricordarcelo. La vibrazione infatti è l'unico segnale che è in grado di emettere questo dispositivo, sia per quanto riguarda la segnalazione degli obiettivi e dei promemoria, sia per quanto riguarda la segnalazione delle notifiche. Questo smartband infatti riesce a segnalare le chiamate in entrata e i messaggi, però attenzione, i messaggi soltanto un'app di messaggistica istantanea alla volta. Ovviamente per ricevere le notifiche è fondamentale che il terminale sia attaccato in bluetooth al dispositivo e questo potrebbe influire sulla autonomia energetica. Effettivamente sincronizzando solo uno o due volte al giorno Fitbit Flex 2 con la sua applicazione sono riuscita a fare più o meno tre giorni, tre giorni e mezzo senza doverlo ricaricare. Invece con connettività costante sono riuscita a sfiorare i due giorni. La ricarica della batteria che è interna di questo dispositivo si fa con un piccolo caricatore che è bene attaccare al computer o magari ha un caricatore con output di un ampere. Con il dispositivo attaccato al computer più o meno ci vogliono un paio di ore o qualcosina in più per ricaricare completamente il dispositivo. Una delle altre feature di questo device, forse una delle più interessanti, dovrebbe essere quella di supportare anche l'attività del nuoto. Personalmente non ho avuto modo di testarlo per tre motivi. Uno è inverno e fa freddo, due non vado in piscina, tre non so nuotare. Però dal basso dell'utente che non utilizza questi device per nuotare mi sentirei di dire che probabilmente ci riesce anche, non so se effettivamente 100 metri di profondità. Però comunque ci basiamo solo e esclusivamente soltanto sull'accelerometro. Per chi fa questo tipo di attività, magari qualche sensore in più potrebbe far comodo. Di conseguenza sarebbe meglio salire di fascia anche con device della stessa azienda, ma proprio proprio in activity tracker entry level per nuotare, secondo me non è il massimo. Per il resto, per quanto riguarda il rilevamento dei passi e di conseguenza a partire dai passi tutta la serie di attività e tutte le feature delle quali abbiamo parlato, ci siamo, riesce a comportarsi bene, più o meno è preciso. Però si tratta sempre di un device che si basa solo ed esclusivamente, sottolineo ancora, sull'accelerometro, come la maggior parte degli activity tracker entry level. Quindi anche in questo caso ci sarà sempre per forza un margine di errore. Anche in questo momento, per esempio, io sto andando ad agitare l'activity tracker, molto probabilmente i passi saranno conteggiati a vuoto perché effettivamente non lo sto indossando. Per quanto riguarda la parte gioiello, Fitbit Flex 2 nasce anche per essere incapsulato in alcuni ciondoli più o meno lunghi come la collana che indosso io o dei braccialetti, entrambi in acciaio inossidabile. Il problema è il prezzo perché questo così in versione basica in confezione con due cinturini identici in silicone costa 79,90. I cinturini chiaramente variano in base alla dimensione del polso. Se invece decideremo di acquistare l'accessorio, questo avrà un prezzo a parte di 79,90 mi pare soltanto il braccialetto in acciaio inossidabile e 89,90 addirittura il ciondolo. Ora, è vero che può diventare un accessorio di moda, però mi sembra un po' eccessivo perché ci ritroveremmo una spesa di circa 160-170 euro per un activity tracker entry level. Considerazioni finali su questo dispositivo? Io personalmente l'ho testato con lunghe passeggiate e un po' di attività aerobica all'aperto. Riesce effettivamente a riconoscere il tipo di attività, riesce a tenere traccia dei passi con i limiti dei quali vi ho parlato, quindi l'accelerometro, anche la rilevazione del sonno è piuttosto precisa, dando un'occhiata ai grafici più o meno mi ci trovo, mi ci riesco ad orientare. Mi piace la connessione rapidissima con il dispositivo, inoltre l'applicazione comunica, visto che dobbiamo registrarci e quindi avere i dati a disposizione in cloud sempre, comunica tramite email quando ad esempio la batteria dell'activity tracker sta per scaricarsi, una feature aggiuntiva parecchio interessante, infatti sottolineo che secondo me l'app veramente ben fatta è un plus, il plus principale di questo activity tracker. Resta però la questione prezzo, siamo su 79,90 euro a meno, ci sono produttori che offrono dispositivi simili e molto spesso dotati anche di sensore per il battito cardiaco piuttosto preciso, tanto per fare un esempio, ad esempio proprio Xiaomi Mi Band 2 o simili, ma ce ne sono differenti. Di conseguenza un oggetto interessante sì, ma probabilmente un utente consapevole che ha questo budget potrebbe decidere di spenderlo, di investirlo in altri prodotti, magari più di nicchia, ma con qualche feature in più. Bene amici di TecnoAndroid, questa era la recensione di Fitbit Flex 2, io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!